Stop al progetto di realizzazione dei quattro nuovi ospedali avviato alla fine della scorsa legislatura. Il noleggio triennale di un nuovo elite anchor per la lotta agli incendi boschivi. Questi alcuni dei provvedimenti approvati questa mattina in consiglio regionale dalla giunta presieduta da Alessandra Todde. Noi vogliamo portare avanti un processo che possa servire ai sardi e non semplicemente costruire delle scatole vuote. La cosa fondamentale è che noi dobbiamo fare un processo che ridistribuisce le risorse correttamente sia agli ospedali esistenti, che in molti casi stanno soffrendo, lo vediamo soprattutto negli ospedali periferici, sia nella distribuzione dei medici, sia nel capire effettivamente che cosa serve per rilanciare la medicina sanitaria, quindi gli ospedali anche cosiddetti secondari. Prima di spendere più di 800 milioni per dei nuovi ospedali, credo che sia importante capire bene che cosa dobbiamo fare per far funzionare quelli esistenti e ovviamente investire in edilizia ospedaliera, ma dove serve. Cambi ai vertici delle aziende sanitarie, riflessione in corso. Noi stiamo facendo una riflessione relativamente a tutto questo, se non altro perché nessuna delle ASLA ha i bilanci che sono stati approvati correttamente, per cui il tema di dover rivedere l'organizzazione passa anche da questo. Se siamo in una situazione in cui la sanità sarda è a questi livelli, sicuramente bisognerà capire anche dove sono le responsabilità e quindi sicuramente ci stiamo interrogando relativamente a cosa fare.